... Sono le 7, buongiorno, benvenuti alla Rassegna Stampa di Fano TV. Siamo in diretta, come sempre, sul canale 17. Allora, tra poco vedremo i giornali. Come di consueto vediamo prima il Santo del Giorno, poi le previsioni del tempo e daremo un'occhiata alle notizie. Partiamo dal Santo del Giorno, oggi è San Costanzo di Perugia. Il sole sorgerà ai 7,28 e tramonterà ai 17,14 minuti. Andiamo a vedere il tempo, perché c'è l'alta pressione, intanto che è in rinforzo nei giorni della Merla, che dovrebbero essere in realtà i giorni, secondo la tradizione, più freddi. Ci saranno soltanto fiocchi di neve sui crinali appenninici, ma nello specifico oggi avremo un cielo regolarmente nuvoloso con possibilità di brevi e deboli piovaschi, soprattutto in montagna, nelle zone esposte ad ovest. Le temperature sono in aumento nei valori minimi. Ancora venti che soffieranno, soprattutto questa mattina, con vento moderato, teso e raffiche, fino a tempesta in montagna e burrasche, invece, nelle zone collinari. Per la giornata di domani, giovedì 30, il tempo migliora, con temperature invece in diminuzione, ancora un po' di vento lungo la costa nel pomeriggio. Venerdì, ultimo giorno del mese di gennaio, ancora cielo parzialmente nuvoloso, con schiarite, annuvolamenti, un po' di vento nelle zone di montagna e in collina. Poi il tempo sarà stabile ancora per il fine settimana e nei prossimi giorni, ma vorrei concentrarmi soltanto un attimo per farvi vedere le temperature previste dalla Protezione Civile delle Marche oggi alle 14. Sono temperature decisamente fuori dalla media del periodo. Guardate Ascoli Piceno, per esempio, oggi sono previsti 16 gradi. Siamo al 29 di gennaio. 16 gradi è qualcosa che non si vede spesso. Adesso, invece, i giornali con il Corriere Adriato in apertura, il tema soprattutto dell'ordinanza anti-smog, che ha firmato ieri il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, ordinanza che prevede il lavaggio delle strade, con marche multiservizi, lo stop ai fuochi, fuori casa, con anche il pellet, riscaldamento a legna e pellet più bassi di 2 gradi, un provvedimento che sarà in vigore fino al 16 febbraio. Centropagine, invece, le carte che riguardano Erdorica, l'inchiesta della Procura di Ancona, nella mail della manager, la richiesta agli uffici di fare una magia, la contabilità, dunque, double face con Erdorica e le fatture falsificate per puntellare il bilancio da chiudere inutile. Ma poi c'è anche la questione delle regionali. Domani c'è un vertice, il PD è nella paralisi, sarà a Roma a decidere, probabilmente, sarà a Roma a decidere il candidato. E Andrea Taffi, questa mattina, scrive sul giornale, andrà così giovedì sera, si parlerà del candidato, ci saranno i pro Ceriscioli e i pro Mancinelli, un confronto reticentemente leale e ammantato di correttezza di facciata, la parola d'ordine sarà evitare strappi e, pertanto, perché votare o seguire lo statuto? Tradotto, i malpancisti, con Ricci in testa, proveranno a spostare la questione a Roma. Zingaretti, pare sia favorevole al cambio, ma ancora non si pronuncia. Mentre, sempre in prima pagina, sul Corriere, furgone usato come ariete, spaccata al Rossini Center di Pesaro dopo l'arresto dei quattro banditi che razziamano case svaliggiata ieri da una gang alla profumeria Douglas all'interno appunto del Rossini, con una spaccata, mentre a Muraglia rondò tecnologico per l'incrocio, maledetto teatro di numerosi incidenti. Questo invece è il resto del carlino di Pesaro. Furgone ariete, attacco all'iper, banda sfonda due vetrate, farazzia in una profumeria nel centro commerciale Rossini, il bottino di decine di migliaia di euro. Evasione fiscale, Formica condannato a due anni e quattro mesi, la sentenza a Rimini, mentre il cardiologo che era stato denunciato da alcune pazienti, il cardiologo a luci rosse che palpeggiava, pago, dice lui, i danni. Verso le regionali, la Meloni, Blinda, Acquaroli, il 20 febbraio intanto Matteo Salvini torna nelle Marche e tornerà a Pesaro. Ordinanza del sindaco, troppe polveri, abbassate le temperature delle stufe. A centro pagina invece la fotonotizia per la crisi della Berloni, stabilimenti chiusi, lo sconforto degli operai che dicono ci hanno abbandonato. Azienda sbarrata, 20 su 85 hanno dato le dimissioni, il liquidatore deve selezionare le manifestazioni di interesse entro domani e le uniche in ballo sono quelle dei due taiwanesi. Staccano visti del furto in trasferta dall'Albania l'operazione della squadra mobile di Pesaro che ha arrestato quattro persone, tra cui anche una donna, mentre da Fano parte l'invito per la Thunberg, la carnevalesca Ciprova. Greta, vieni da noi, la vogliono non solo in cartapesta, perché per farla di in cartapesta insomma ci penseranno i carristi, la vogliono in carne d'ossa. L'ente dunque spara i suoi colpi di marketing a due settimane dalla prima sfilata. La cronaca d'Ancona, la prima pagina, rubano anche ai malati in ospedale, a torrette di Ancona raffica di segnalazioni da parte di degenti e familiari, un furto pure mentre ero in sala operatoria. Ma a centro pagina la notizia di un tragico parto al Salesi, la procura indaga sulla morte di una neonata. Sorpresa, il PIL delle Marche cresce del 3%, il meglio praticamente in Italia. A Corinaldo, schianto frontale fra due auto, anziano muore vicino casa. Macerata, droga per gli studenti, un arresto, Civitanova, 21enne accusato di spacciare negli istituti, nel garage di casa, nascondeva tre etti di marijuana. Questa è la pagina invece del resto del Carlino di Fano. Ed eccola qua la notizia che, se vogliamo, è la novità del giorno. È la notizia del giorno. Spunta un progetto per un digestore a Barchi. Mentre a Fano la politica discute, un'azienda elpidiense ha già presentato una richiesta in provincia per un impianto da 40.000 tonnellate. Ora diciamo subito che il sindaco di Terra Roveresca, Antonio Sebastianelli, dice noi sinceramente come Comune non siamo stati ancora interpellati. I vantaggi potrebbero anche esserci, ma occorre prima valutare il progetto. Intanto proprio ieri sera in Comune a Fano, nel Consiglio Comunale, c'era all'ordine del giorno proprio la questione del digestore anaerobico. Ma insomma, mentre il mondo politico fanese si avvita attorno a questo digestore, scrive Benedetta Iacomucci, sul giornale questa mattina, c'è chi non sta a guardare e si tratta di una società che si chiama Ferogna SRL, un'azienda con sede a Porto Sant'Elpidio che il 20 gennaio scorso ha presentato alla provincia di Piesa Urbino la richiesta per l'autorizzazione alla realizzazione nel Comune di Terre Roveresca di un digestore anaerobico da 40.000 tonnellate. Un progetto ancora a livello umbrionale, ma sembra che, se portato avanti, metterebbe la pietra tombale su ogni velleità fanese che, come noto, da anni discute, insomma, senza trovare la quadra, sulla possibile realizzazione di un impianto da 60.000 tonnellate tra Bellocchi, Monteschiantello e Falcineto. Dove farlo questo digestore? Ora, il rendering che vedete nella fotografia nel televisore di casa è quello dell'impianto che potrebbe sorgere a barchi, proprio in quell'area lì. Quindi il paesaggio non è stato preso a casaccio, è proprio lì, in quel punto, a barchi, dove c'era l'ex discarica, Carafaneto, ecco, è stata fino a 25 anni fa, fino al 2014, anno in cui è stata chiusa questa discarica a barchi, che oggi costa ancora 800.000 euro all'anno tra manutenzioni, situazioni varie, ebbene, qui potrebbe nascere questo digestore. E quindi, tra l'altro, da quello che leggo nell'articolo del resto del Carlino, in questa zona, intorno ci sono soltanto colline, non c'è, non ci sono case, per cui sarebbe anche, come dire, un punto giusto, il sito è quello dell'ex discarica, quindi, insomma, c'era già una cosa simile. La proposta dell'epidenza veronica che ha partecipazioni anche pesaresi qui nel catenaccio. Ora, vabbè, questa è la notizia. Poi vedremo il proseguo. Intanto, sulla pagina di Fano, il Corriere, invece, interviene sulla questione del biodigestore fanese. Niente dati. Il problema è il business, la critica del Forum per i beni comuni, è il convegno organizzato da Lega Ambiente. Non è tutto oro quello che riluce, anche in materia ambientale e nel campo dell'economia circolare, lo rileva il Forum Provinciale per i beni comuni, che mette in evidenza i punti deboli dell'analisi sul biodigestore anaerobico svolta venerdì scorso a Fano al convegno di Lega Ambiente. E quindi, insomma, Fano continua, se vogliamo, ad essere comunque dubbiosa, scettica su questo impianto. l'impianto dimensionato oltre il fabbisogno non persegue l'obiettivo di ridurre i rifiuti prodotti. Poi, a Capodanno, invece, questa è la notizia che arriva dal Consiglio, evidentemente, botte a Capodanno, il sindaco dice nessuna multa, il sindaco di Fano Massimo Seri, il Movimento 5 Stelle ha contestato anche la scarsa informazione e il disturbo agli animali. Greta è invitata al Carnevale, divide l'analogia con Barbie, mail all'attivista svedese della Presidente Gian Marioli, l'aspettiamo a uno dei corsi mascherati. È una mail che è stata inviata appunto da Presidente dell'ente cannaverisca, Maria Flora Gian Marioli, e adesso bisogna vedere se risponderà, insomma, questa ragazzina svedese, anche perché, insomma, di email, immaginiamo, e di inviti ne riceverà davvero tanti. Non credo che ci sia la possibilità di vederla in carne ed ossa, ma ci accontentiamo anche della carta peste. Edizione 2020 per l'ambiente, ma il blog Femminismi si scusa con Tumbe per la satira, poverina, ce l'avrà presa male. Ormai la satira non si può più fare. Ma c'è una polemica che adesso svetta questa mattina anche sul giornale un gay fanese che difende la canzone di Povia e, insomma, va controcorrente, dice che gli piace Povia e quindi siamo tutti contenti. I rapporti tra Leonardo e Vitruvio fanno capitale al Centro Studi Fanese riuniti i curatori di tutte le mostre in Italia sul genio vinciniano. Eccola qua Greta. Greta Thunberg che, insomma, con tutto l'affetto per Mauro Chiappa l'avrei fatto in maniera un po' più sorridente. Mauro Chiappa è un grande carrista, è uno che ha un futuro nel nostro carnevale, ma questa faccia di Greta un po' così mi lascia perplesso. Comunque, sono questioni personali. Greta, non solo Cartapeste, il carnevale la vuole vera, l'ente presiduto da Maria Flora Giammarioli, scrive una lettera alla giovane attivista. Intanto gli albergatori di Riccione a caccia di turisti da portare in Romagna. E tra un getto e l'altro si scatta le fotografie. c'è Ivo Saglietti che è in giuria per un concorso, una grande occasione di cultura fotografica per la città di Fano, visto che c'è questo progetto, questo concorso. Anche qui il resto del Carlino Io sono gay e mi piace Povia. C'è chi condivide la scelta del discorso testimonial, ma l'Archigay, insomma, sappiamo, non è d'accordo. Niente code con il biglietto online e costa anche meno perché sapete che per entrare al Carnevale di Fano c'è da pagare, da acquistare un biglietto. La Carnevalesca ha già predisposto la vendita online. Quest'anno, tra l'altro, conviene perché uno, si evitano le file alla cassa, che tra l'altro l'anno scorso erano anche piuttosto lunghe, due, c'è un risparmio, credo, di 2 euro perché sarà possibile acquistare il ticket a 10 euro fino al momento dell'ingresso alle casse e però costerà 12 per i tesserati. Invece, chi ha la tessera dell'ente Carnevalesca, il costo è simbolico e entrare al Carnevale costerà soltanto 1 euro. Lavori per l'acquedotto. Presto, nuovi sensi unici, gli annunci del Vice Sindaco Fanesi all'Assemblea del PD promossa a Sant'Orso. Qui il Vice Sindaco ha elencato ai residenti quelli che sono i lavori dell'acquedotto e quindi i vari interventi, i vari divieti che ci saranno. Poi i residenti hanno chiesto anche più parcheggio, una rotatoria tra via Soncino e via Magalotti. Insomma, altre richieste che comunque saranno prese in considerazione dal Vice Sindaco. Violento tamponamento invece sulla statale Silice Adriatica. Ieri il traffico è andato in tilte per circa un'ora lungo l'Adriatica l'auto che svoltava a sinistra è stata catapultata fuori strada è stata tamponata è successo intorno alle 9.30 di ieri mattina in un orario piuttosto delicato anche per il traffico. Dalla Valle del Metauro sempre da Fano ciclabile navetta turistica così reparte la Fano Urbino la vecchia ferrovia qui nella fotografia c'è Enrico Tosi Leonardo Zanna sulla tratta chiusa nel 1987 gli ambientalisti soddisfatti del sì di Rete Ferrovia Italiana al progetto della Regione con 4 milioni e mezzo di euro stanziati si arriva con la pista fino a Tavernelle e poi l'ipotesi di un treno su gomma. Andiamo adesso sulla pagina invece di Fano di Fossombrone Caglia Urbani e del resto del Carlino perché sempre a proposito di questa ciclabile prima c'è da aprire la Galleria della Guinza il sindaco di Sant'Angelo in Vado Luzzi infatti ritiene che la priorità dei lavori debba essere la viabilità su strada lungo la Valle del Metauro poi al limite tutto il resto e quindi soldi per la ciclabile per il primo cittadino vadese l'isolamento sta uccidendo imprese e commercio e poi la fotografia Piobbico di Menco e Anna insieme da 70 anni una grande festa ieri nel paese di Piobbico una vita passata a fare il fattore e lei la casalinga all'ombra del Monte Nerone uno dei nipoti è Paolo capitano della Vis Pesaro da Urbino il comune stanzia 146 mila euro per i poveri saranno agevolate le famiglie che non ce la fanno a pagare la mensa scolastica i trasporti le bollette e anche gli affitti i sindacati sono soddisfatti solo 5 mila euro di aiuti per i contributi previdenziali a delle badanti questi sono i soldi per gli anziani cardiologo patteggerà ma prima risarcisce secondo i legali delle 12 ragazze che lo hanno denunciato il medico ha iniziato a ristorare per conto proprio bisognerà aspettare fino al 24 marzo prossimo solo quel giorno Valentino Ferri cardiologo di 69 anni di Peglio arrestato un anno fa con l'accusa di violenza sessuale aggravata patteggerà la pena frantumava le vetrine per rubare incastrato lo specialista della Selce siamo sempre su Urbino ma dal Corriere Adriatico ai domiciliari è finito un 47enne disoccupato colto sul fatto dai carabinieri sul suo conto due mesi praticamente di furti messi a segno mentre sotto per i cittadini 150 mila euro investiti nel sociale incontro tra i sindacati e l'amministrazione comunale dopo le richieste di giugno pochi medici a Senigallia pronto soccorso al collasso sono quattro i camici bianchi che mancano all'appello si utilizzano quelli del 118 i NAS hanno riscontrato problemi per chi lavora al triage cioè all'accoglienza vandali scout puliscono il murales li vedete qui in questa piccola fotografia all'opera mentre ripuliscono gli scarabocchi sui muri centrodestra caccia al candidato a Senigallia Olivetti Tentenna c'è però Canestrari andiamo ancora avanti tamponamento sulla statale torniamo Trafano e Pesaro auto si ribalta e va fuori strada questa è la fotografia ferita in modo non grave una donna di 64 anni traffico rallentato semi distrutti due mezzi poi ieri mattina c'è stato un guasto lo sanno bene quelli della zona del corridone un guasto blackout elettrico che tra l'altro ha avuto ripercussioni anche a scuola oltre che nei vari esercizi commerciali e a presidio di semafori erano spenti quindi gli automobilisti alunni senza riscaldamento fino alle 10.40 la corridone disagi anche per le attività poi tutto è stato risolto cambiando il trasformatore che era andato che si è guastato schianto e carambola invece tra auto ferito grave soccorso da Icaro Icaro e l'eliambulanza lo scontro è successo a Sant'Andrea di Suasa forse durante un sorpasso un ottantenne è finito all'ospedale regionale queste sono le due fotografie un pensionato di 81 anni del posto Ireneo Morico ha subito le conseguenze peggiori e per le gravi ferite riportate è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Torrette l'incidente è intorno ai 10 di ieri lungo la stretta strada provinciale 115 quasi all'ingresso del centro storico del piccolo borgo di Sant'Andrea di Suasa ancora dai quotidiani i giovani predoni siamo siamo qui nella sede della questura di Pesaro dove ieri è stata organizzata una conferenza stampa per relazionare sull'arresto di questi 4 albanesi una banda che era dedita ai furti e ne aveva messi a segno diversi sia Pesaro Case Bruciate Fano Marotta Tavuglia 4 albanesi tutti ventenni che colpivano tra le 5 del pomeriggio e l'ora di cena tra loro c'era anche una donna che tutti quanti sono stati arrestati dalla squadra mobile grazie ad un controllo che è stato effettuato a Case Bruciate niente vita mondana a letto presto e il giorno dopo tutti pronti per altre razzie e questi sono gli oggetti anche di valore che sono stati recuperati che gli agenti in questa fotografia mettono in mostra e poi evidentemente qualcuno dovrà dovrà andare a vedere insomma se soprattutto tra chi ha subito dei furti ultimamente se c'è anche la propria i propri effetti Formica Mario Formica è stato condannato per evasione fiscale l'appello rovescia il primo grado infligge due anni e quattro mesi all'ex presidente della Fiera di Campanara ha sequestrato oltre un milione di euro la sua difesa dice ho sempre lavorato onestamente e creato occupazione non ho nulla da nascondere Mario Formica è molto conosciuto a Pesaro perché è nativo di Urbani e poi è stato dal 2011 al 2012 presidente della Fiera di Campanara una storia burrascosa Formica aveva le quote di minoranza e chiedeva alla Camera di Commercio di acquisire invece la maggioranza un'avventura terminata dopo un anno tra l'altro si era presentato anche alle regionali nel 2015 con la lista Marche 2020 che faceva riferimento all'ex governatore Gian Mario Spacca senza però essere stato eletto Alessandra Nanni questa mattina sul giornale scrive un po' nel dettaglio quella che è la vicenda che vede appunto Formica in questa vicenda appunto Berloni ora l'azienda è sbarrata gli operai ci hanno dimenticato dicono già in 20 su 85 si sono dimessi dall'unico discorso stabilimenti deserti risponde solo una voce registrata i salvatori più accreditati al momento restano i due taiwanesi ma entro domani Meloncelli deve chiudere la liquidazione in uno studio romano qualcosa si era capito quando una dei dirigenti era ripartita per Taiwan tutti devono avere ancora lo stipendio di dicembre gennaio e anche la tredicesima poi altri arretati altri arretrati ma la storia dei fratelli Berloni storie opposte di questi due fondatori della Berloni vede Antonio e Marcello uno da una parte e uno dall'altra dopo la divisione che è avvenuta sulla possibilità di cessione del mobilificio ai colombini di San Marino uno dei fratelli voleva cederlo a San Marino il marchio della Berloni tutta la fabbrica invece l'altro fratello ha voluto vendere tutto ai taiwanesi queste storie hanno preso strade opposte Antonio si è preso gli stabilimenti della Indel B di Sant'Agata Feltria ma non solo perché dentro c'è anche la galassia di famiglia c'erano pure le terme di Carignano un pozzo senza fine dove hanno buttato un sacco di soldi comunque dicevamo di questa azienda brasiliana la Indel B che tra l'altro è un gioiellino perché è un'azienda tecnologica ed è una fabbrica diventata nota perché uno dei suoi mini frigoriferi mini frigo era finito persino su uno shuttle della NASA quelli che vanno nello spazio scusate Anziano si scontra ancora cronaca e carambola con l'auto anche qui a Sant'Andrea di Suasa un 82enne trasportato in elia ambulanza al Torrette ma non è in pericolo di vita e poi dalla regione questa notizia che arriva tragica dal Salesi partorisce una bambina morta tragedia all'ospedale la procura apre un'inchiesta la famiglia vuole capire cosa è successo in sala operatoria è stato fatto anche un esposto l'avvocato dice non vogliamo puntare il dito contro nessuno però diteci la verità e parla il primario della clinica di ostetricia e ginecologia del Salesi patologia diabetica purtroppo il rischio c'è sempre siamo addolorati per quello che è accaduto ma per questo tipo di gravidanza può succedere i primi tracciati erano regolari poi quando il personale ha ripetuto il controllo l'emergenza era in atto infatti è stato disposto subito il parto cesareo di urgenza siamo tutti addolorati per quello che è successo però quando c'è una patologia diabetica la morte in utero del feto è uno dei rischi che purtroppo si corrono con il furgone dentro lì per Rossini a Pesaro doppia spaccata poi parte la razzia saccheggiata dai ladri la profumeria Douglas in fuga con un ricco bottino indagini della polizia qui siamo invece ad Ancona la compagna si prostituisce mentre lui aspetta sul terrazzo e si fuma una sigaretta il blitz è della polizia in una casa a luci rosse in via Giordano Bruno al piano al piano di Ancona un agente si è finto cliente l'uomo è stato denunciato per favoreggiamento secondo la legge Merlin la segnalazione però questo è curioso la segnalazione l'hanno fatta i vicini di casa perché si sono insospettiti vedendo quest'uomo così spesso sul balcone anche nei mesi più freddi e qualcuno ha detto cosa ci fa quest'uomo sempre sul balcone in effetti quando l'uomo era sul balcone la compagna era a letto la coppia è stata rintracciata nei siti di annunci hard ogni appuntamento fruttava 50 euro sotto sotto sempre Dancone invece un'altra notizia che riguarda l'amore la gelosia sei l'amante di mio marito e scoppia una lite furibonda le due donne si sono affrontate in strada fino all'arrivo dell'uomo che prima ha negato poi senza riuscire a calmarle ha usato violenza tu sei l'amante di mio marito io ti ho scoperta ora te la faccio pagare così ieri mattina agli archi di Ancona è scoppiata una furibonda lite tra due donne una nordafricana la moglie e la presunta amante una italiana siamo quasi in chiusura andiamo sulla pagina di Urbino e Provincia Ivan Cottini ballerà al festival di Sanremo il modello e ballerino di Urbania affetto da sclerosi multipla si esibirà con la ballerina Bianca Maria Berardi già sua partner in tv e lui dice voglio dimostrare che la mente non ha disabilità e che ogni obiettivo è lecito so di essere un esempio per tanti come me e questa era l'ultima notizia della nostra rassegna stampa rassegna che torna tornerà domani mattina come sempre puntuale alle 7 noi invece ci salutiamo qui vi do appuntamento a questa sera alle 20.30 quando andremo in onda con il telegiornale e vi ricordo che questo numero di telefono è il numero per le vostre segnalazioni anche con Whatsapp grazie per essere stati con noi buona giornata a tutti grazie per la visione